Ciao a tutti amici di YouTube, in questo video dedicato alla serie Visa Studio vedremo sempre in Basic come creare un semplice tool per verificare la propria connessione internet confermandocelo attraverso un messaggio di dialogo creiamo il progetto, costruiamo un attimino la parte grafica mettendo semplicemente un button rinanimatelo a piacere secondo il contesto, chiaramente apriamolo per implementarci il codice siamo nell'evento click, ovvero quando l'utente è intenzionato a pigiare il tasto incominciamo scrivendo una variabile quindi dim, connessione as boolean il boolean come sapete restituisce true o false quindi nel nostro caso se dobbiamo sapere se la connessione c'è o meno è perfetto aggiungiamo un uguale, poi mycomputer.network.isavailable quindi deve esaminare, se vogliamo dirla così, l'interno del computer e verificare se è presente connessione andiamo a capo mettendo un if, poi connessione uguale true, then andiamo nuovamente a capo aggiungendo un access box hai connessione all'internet mettiamoci un altrimenti, else e scriviamo un access box per informare che non siamo connessi ricapitolando, abbiamo impostato un booleano quindi abbiamo impostato due vie che deve eseguire il programma in questione vero se la connessione è presente falso se la connessione è assente grazie poi a access box l'utente potrà intuire la situazione attuale per questo è tutto, vi invito a visualizzare altri progetti effettuati in altri tutorial noi ci vediamo ad un prossimo video grazie a tutti